Ciao! Recentemente ho visto uno short di un'altra scuola che proponeva cosa rispondere a un messaggio di questo tipo. La ragazza scrive, ho troppi match e non riesco a stare dietro a tutti. Premi tu una cosa per onestà intellettuale. Mentre in questo video ti suggero come rispondere, in realtà a me una cosa del genere non è mai successa e probabilmente perché, con quelli che sono i miei profili online, non raschio così tanto il fondo del barile, senza voler offendere nessuno, è semplicemente un fatto. Ma partiamo da quella che era la risposta suggerita da questa scuola, ti darò poi quella che è la risposta che io suggerirei e poi vediamo perché questo video in realtà è a scopo di intrattenimento. Quindi la scuola in questione suggeriva di rispondere, in realtà tutte qui sono piene di match o amiche molto carine qui e sono piene e anche meno carine e forse sono ancora più piene. Bada alla qualità, non alla quantità. A parte la lunghezza forse devo dire che francamente non ho nulla di particolarmente in contrario su questo messaggio, nel senso che c'è una leggera DHV, dimostrazione di valore superiore relativamente alle amiche e poi una sfida, bada alla qualità, non alla quantità. Ora quello che faremo sarà mostrarti cosa avrei risposto io e perché, a mio parere, il mio messaggio sarebbe stato migliore e perché in realtà non avresti dovuto mandare, secondo me, né l'uno né l'altro. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante, se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio di Lorenzo, dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti, quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Dunque, quello che avrei fatto personalmente sarebbe stato fare uno screenshot di questo video che ho trovato su YouTube, prendendo in buona sostanza anche il titolo, quanto le donne sono più di successo su Tinder. Perché avrei fatto lo screenshot? Perché magari il video non se lo guarda, però l'immagine del ragazzo che si traveste da donna è abbastanza eloquente. E poi avrei scritto un obiettivo ambizioso chiama l'altro. Il prossimo è una laurea in fisica quantistica, occhiolino. Ora, perché personalmente ritengo che questo messaggio sia meglio? Voglio partire da una premessa. Nel momento in cui la ragazza dice che ha un sacco di match, in realtà pone un frame che è difficilmente contestabile. È semplicemente un dato di fatto, le donne hanno più match degli uomini su Tinder, Bumble e compagnia cantante. Su questo ci puoi fare poco e quindi parzialmente entrambi i messaggi hanno il problema che se vuoi rispondere, vuoi o non vuoi, da uomo normale devi entrare in quel frame. In ogni caso, per quanto mi riguarda, secondo quella che è la mia analisi tecnica, il messaggio che io propongo è meno reattivo del primo che è stato proposto e in più sfrutta di più il principio del self amusement, cioè del fare qualcosa semplicemente perché ti diverte e del non prendere la ragazza sul serio, quindi di nuovo essere meno reattivo. E poi di nuovo anch'io la sfido. Ora, perché tutta questa però è masturbazione mentale? Premetto che io non ho nulla contro, ripeto, il primo messaggio che è stato proposto dall'altra scuola. Gli ingredienti, o meglio, all'interno sono corretti. Il punto è un altro e cioè che il motivo per cui questi messaggi, eccezione fatta per situazioni molto particolari, magari in cui vuoi davvero per forza provare a beccare proprio quella specifica ragazza per qualsiasi motivo, questi messaggi non andrebbero mandati. Ora cerco di spiegarti il perché. Il problema con questi messaggi è che, indipendentemente da quanto il tuo messaggio sia, tra virgolette, perfetto, qualsiasi cosa perfetto voglia dire, stai raschiando il fondo del barile. Con un messaggio come quello che abbiamo appena visto da parte della ragazza, lei in realtà ti sta segnalando un bassissimo livello di interesse, che in questo momento non è neanche interesse, ma al massimo desiderio di avere la tua attenzione. In alcuni casi, che sono comunque una minoranza statistica, è possibile, a furia di trick psicologici, uno dietro l'altro, come quelli che abbiamo visto, convertire una ragazza che parte così in una chiusura ai giochi? In un mondo completamente ipotetico, sì, e anche in quello pratico. Però, proprio per essere pratici, dobbiamo fare alcune considerazioni. Per arrivare alla chiusura con questa ragazza, dovrai innanzitutto spendere un'energia enorme. Ci metterai, poi, se ci riesci, molto probabilmente più tempo che con un'altra ragazza a chiudere i giochi, proprio per la sua scarsa attrazione per te. E in più ad ogni step corri due rischi. Il primo è fare... il primo è quello di fare una mossa sbagliata che ti porta a perdere l'attenzione, faticosamente conquistata, che cerchi disperatamente di convertire in attrazione. Il secondo è che sei, per tutto il tempo, finché non le cacci il pisello in patata, alla mercè di uno di questi moltissimi match che a lei però piace, a differenza tua, e te la frega. E mentre questo è vero per ogni singola ragazza al mondo, è ancora più vero per questa ragazza che abbiamo preso, ad esempio. Ora, immagina di moltiplicare questo processo, dove tu rischi costantemente durante tutto il processo di perdere ragazze, molto di più che con ragazze che sono più interessate a te. Quindi immagina questo processo di moltiplicarlo per ogni ragazza con cui hai a che fare. Francamente, dal mio punto di vista, è una gran vita di merda. Ripeto, a scanso di equivoci, imparare come rispondere a ragazze stronze, monosillabiche, come metterle al loro posto, e tutta quella roba lì ha un suo tempo e un luogo. Ma questo non toglie il fatto che queste sono, tra virgolette, armi che è bene usare in maniera molto selezionata, una volta che hai, per così dire, imparato l'arte, e per ragazze specifiche, e non come una strategia da adottare tutti i giorni nella tua strategia media. È molto meglio quindi cercarsi ragazze a cui invece interessi davvero. Questo ovviamente significa due cose. La prima è che potrebbe servire più lavoro di volume, e la seconda è che moltissimi uomini dovranno usare l'online come supplemento e non come forma numero uno di traffico. Ehi, fermo lì. Prima di andartene ricordati di iscriverti al canale e di andare a guardare subito i video gratuiti che ho creato per te sulla seduzione via messaggio. In questi video ti mostrerò vari screenshot di chat commentate passo passo, dove ti mostro come sia possibile portare ad appuntamenti ragazze che inizialmente non rispondono ai tuoi messaggi e trasformarle in ragazze che non vedono l'ora di uscire con te. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.